Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Johnny Herbert, ex compagno di squadra di Michael Schumacher nella scuderia Benetton, ha recentemente rivelato alcuni dettagli sulla vita quotidiana del campione tedesco dopo l'incidente sciistico che ha cambiato la sua esistenza. Mi è stato detto che Michael è in grado di sedersi a tavola per pranzare e cenare. La clamorosa rivelazione arriva dall'ex pilota inglese Johnny Herbert, compagno di Schumacher per due stagioni in Benetton nel 1994 e nel 1995. Secondo le dichiarazioni di Herbert, Schumacher riceve un costante supporto da parte della moglie Corinna e dei figli Gina Maria e Mick, oltre a essere assistito da un team di professionisti composto da medici, infermieri e massaggiatori. Tuttavia, è importante sottolineare che l'ex pilota non può confermare al 100% la veridicità di queste informazioni e preferisce evitare di alimentare false speranze. L'ipotesi avanzata da Herbert è che Schumacher potrebbe trovarsi nelle stesse condizioni in cui si trovava dopo le operazioni chirurgiche successive all'incidente. L'affetto e il continuo sostegno per Michael Schumacher da parte della sua famiglia. Degli amici e dei fan in tutto il mondo rimangono un pilastro fondamentale nella sua vita dopo l'incidente sciistico. Nonostante le informazioni sulle sue condizioni di salute siano scarse, è evidente che Schumacher si è circondato da una rete di amore e affetto senza fine. La moglie Corinna ha sempre mantenuto un rigido controllo sulla privacy del marito e coloro che lo visitano rispettano questo desiderio, dimostrando così la loro dedizione nei suoi confronti. L'amore e il sostegno costanti dimostrati nei confronti di Michael Schumacher testimoniano la forza della sua influenza nel mondo dello sport e l'immenso affetto che suscita tra i suoi cari e i suoi numerosi fan.